Tempi di migrazione per gli anfibi che ritornano ai propri luoghi di nascita. Peccato che a dividerli dalla meta vi sia una strada asfaltata. Considerevole il numero di anfibi, soprattutto rospi, che in questo periodo dell'anno, nelle zone del Basso Trevigiano e dei laghi di Revine, finiscono schiacciati dalle auto in corsa. In questo periodo c'è la migrazione degli anfibi, principalmente qui al Fagare, al Bosco del Fagare, migrano i rospi comuni e le rane di Rataste, che è un endemismo particolare della nostra zona. La si trova in Veneto, nel Triveneto, praticamente un po' di Lombardia, un po' di Emilia Romagna. In tutto il mondo la troviamo solamente qui. Noi siamo qui per praticamente evitare lo schiacciamento di questi animali nella strada, perché nel loro spostamento verso il sito riproduttivo, verso lo stagno, devono attraversare queste vie molto trafficate. Quindi noi installiamo delle reti che bloccano il passaggio a questi animali, li fermano. Noi passiamo, li raccogliamo con dei secchi appositi, ben puliti, e dopo abbiamo tutta l'attrezzatura necessaria anche per farci vedere noi stessi dalle macchine. Li prendiamo e li portiamo a un sito di rilascio, dove loro proseguiranno la strada verso il sito riproduttivo. In realtà se ci fossero delle strutture apposite, che attualmente sono dei tunnel di sottopassaggio, tipo le nostre gallerie, posizionate nella strada, loro potrebbero muoversi tranquillamente evitando la strada. Noi, non lo so, stiamo cercando, adesso operiamo in questo modo, però il nostro sogno sarebbe appunto quello di riuscire a mettere in sicurezza tutto l'arco dell'anno, anche perché noi adesso prendiamo la migrazione degli adulti che si spostano allo stagno a riprodursi. Tutto quello che sono i girini, ad esempio, nel momento in cui metamorfosano e fuoriescono dallo stagno, che questo avviene attorno a giugno, non siamo in grado di seguirlo. Perdere un adulto in strada per noi vuol dire tantissimo, perché non è una selezione naturale la strada, uccidiamo qualsiasi cosa, mentre un animale che è mangiato per vari motivi da qualcun altro e comunque si crea una catena, l'animale schiacciato in strada non è selezione, cioè è proprio una perdita enorme. Noi su una stagione riproduttiva saliamo sui 10.000 anfibi, tra rospo comune, rana di lataste, abbiamo la dalmattina, quest'anno è un anno particolare anche per i tritoni, che sono altri anfibi, con la coda, in questo caso c'è qualche salamandra, quindi sì, sui 10.000 attualmente. Non operiamo solamente qui, noi abbiamo un altro sito che è in panoramica, sulla panoramica del Montello, e un sito a Cavaso, seguiamo noi come SOS Anfibi. Dopo c'è tutta la zona dei laghi di Revine, che lì viene gestito da un'altra associazione, che possiamo in stretto contatto, e poi abbiamo verso Vicenza, che si stanno operando anche della gente da quelle parti, e a Padova anche per sempre tutti i portati con lo stesso obiettivo di riuscire a salvaguardare questa fauna minore, che è sempre bistrattata, maltrattata e poco osservata tante volte. Noi abbiamo iniziato di solito dai primi di febbraio, primi metà febbraio, perché quando cominciano le prime piogge, le prime piogge, fra virgolette primaverili, quelle che cambiano un po', che a loro dà il segno di partenza. E dopo dipende un po' dai siti, in base a come va la stagione. Noi ad esempio quest'anno abbiamo quasi finito le andate, perché oramai ne sono già passati 10.000, però ad esempio a Cavaso e sul Montello, in panoramica del Montello, lì si devono ancora muovere. Quindi dipende un po' proprio dalla zona. Comunque sì, se ci sono volontari, benvenga, noi siamo ben accetti, abbiamo necessità, abbiamo bisogno. Nel sito SOS Anfibi si possono trovare tutti i contatti e basta telefonare ai responsabili di zona o alla nostra presidente, all'Alessandra Bogo, e lei indirizza, in base alle necessità, o mandare una mail.